Ciao, quello che stai per vedere è l'1%, un estratto di altissimo valore di una lezione della mia Masterclass. Che cosa è la Masterclass? È un percorso di 12 ore che ho creato, un'ora settimana per 3 mesi, quindi 12 appuntamenti virtuali, nei quali ti insegno la seduzione dalla A alla Z. Vedrai che troverai un sacco di valore in questa grip, quindi immagina quanto valore puoi trovare in una singola lezione e quindi nell'intera Masterclass. Se hai ancora in tempo per entrare a un prezzo veramente ridicolo, clicca il link sotto in descrizione e accedi. Ti aspetto a lezione. Non avere fretta. Questo va un po' in contraddizione apparentemente con quello che io ho detto prima, però anche no, perché c'è da rispettare una serie di fasi, nel senso, quando tu ti avvicini, ci parli, non devi avere fretta, nel senso non devi cercare di anticipare quelle che sono le fasi che tu pensi di dover affrontare, quindi chiacchiera, poi chiacchiera profonda con me a vicino, poi ti tocco e provo a baciarti, ma puoi anche soffertirle a queste cose. Non ha detto per forza che tu debba seguire la lettera, non è detto che tutte le fasi abbiano lo stesso tempo per essere attraversate, e non è detto che appunto lei sia pronta quando tu lo sei. Tu devi sempre basarti su quelli che sono i suoi feedback, cioè quello che lei ti dà come segnale di interesse, come, se così vogliamo, quel brividino che vedi nei suoi occhi, quella lucentezza, il come, e tutti gli altri segnali in sostanza che ti manda, ovvero tutto quello che fa attivamente, ma quello che anche fa il suo corpo, come reagisce il suo corpo quando tu fai certe cose. Se tu progredisci in sostanza appunto, e vai sempre più a cercare l'intimità, che è l'unico modo per avere il bacio poi, quindi intimità prima verbale, poi fisica, e poi arrivi al bacio, se lei vedi che ti segue durante questa, se così vogliamo, escalation, e non si sposta, non rallenta, ma segue, quindi diciamo percorre il cammino che tu stai tracciando, vuol dire che anche lei lo vuole, vuol dire che anche lei è al 100% convinta che il cammino che state seguendo è nei tempi corretti, quindi in generale non avere fretta di spostarti di qua e di là, non avere fretta di baciarla, l'unica cosa è che ovviamente, come ho detto prima, ed è una cosa su cui io credo fortemente, più tempo passa, ovvero di appuntamenti che fate, di volte in cui vedete, in cui non vi baciate, più diventerà difficile il bacio.